e la gloria, nei secoli dei secoli. Amen. Grazie, padre Michael Penny, per aver attraversato la città ed essere venuto fra noi. Siamo onorati della sua presenza qui. La mia spada scintillante e la mia mano si leveranno per giudicare. Io mi vendicherò dei miei nemici e punirò coloro che mi hanno perseguitato. Oh, signore, accoglimi nella schiera dei tuoi santi. E in questo santo giorno, così caro a tutti noi, vorrei ricordare la triste storia di Chitti Genovese. Come voi tutti ricorderete, Molto tempo fa, circa trent'anni or sono, quella povera anima gridò in cerca di aiuto. Non una, ma mille volte. Nessuno rispose alla sua chiamata. E molti videro. Ma nessuno ebbe il coraggio di chiamare la polizia. Tutti restarono a guardare, mentre Chitti veniva accoltellata e moriva in pieno giorno. Tutti videro i suoi assalitori che fuggivano via. Fratelli, tutti noi dobbiamo temere gli uomini malvagi. Ma esiste un altro tipo di male che dobbiamo temere ancora di più. E questo male è l'indifferenza degli uomini buoni. Alla fine il monsignore è arrivato al punto. Sì.